Abbiamo un fenomeno che si acuisce in prossimità delle feste di Natale, ma più in generale il periodo caldo inizia con il cambio dell'ora solare. Si sa, il crepuscolo è l'orario perfetto per i malintenzionati, ladri che approfittano della nostra distrazione, talvolta non curanza per fare manbassa. Dai 5 ai 7 casi di furti al giorno, quelli che si registrano nel capoluogo berico, solo nelle scorse ore in un appartamento in via Pizzoccaro in città, i ladri hanno approfittato di tre ore d'assenza dei proprietari per svaliggiare l'abitazione rubando monigli in oro e pietre preziose per un valore stimato di 4.000 euro. In via Malaspina i ladri invece hanno approfittato dalla porta non chiusa adeguatamente per mettere a soquadro l'abitazione e rubare anche qui, con tanti e moligli in oro, per circa 1.000 euro. Noi li definiamo trasfertisti, cioè che vengono anche da realtà geografiche diverse proprio per perpetrare questi furti e quindi loro prendono di mira un'intera via, un quartiere, comunque abitazioni limitrofe e quindi hanno gioco facile. In via Bachelet i ladri hanno visitato due appartamenti, in uno la proprietaria addirittura era andata a spasso con il cane e aveva lasciato per la sorella le chiavi nella toppa della serratura, ma ad entrare alla fine sono stati i ladri, trafugando 210 euro. Se i primi consigli sono ovvi, ovvero chiudere adeguatamente porte, finestre, tapparelle e scuri, gli accorgimenti che si possono adottare sono anche altri. Se possibile dotarsi anche di strumenti di difesa passiva di basso costo per bloccare l'alzata delle tapparelle oppure anche degli scuri con un serramento interno e un chiavistello interno. Esistono anche degli offendicoli apposta da mettere sui pluviali, anche questa potrebbe essere una spesa che poi viene ripagata nel tempo.